Ben ritrovati radioascoltatori e telespettatori di RTC, una nuova puntata settimanale di RTC Calabria Sport, il punto, il pensiero sul calcio regionale, parleremo come sempre del campionato di Serie B, di Serie C e di Serie D, una breve nostra considerazione, un'analisi sull'ultima giornata nei vari campionati. In Serie B il Catanzaro perde in casa con la Cremonese, un passo indietro sicuramente a livello di gioco per la squadra di Fabio Caserta che almeno a nostro avviso a Cittadella non si era comportata male con il nuovo modulo, con il 4-2-3-1, ma è obiettivamente un passo indietro quello del Catanzaro nella gara interna con la Cremonese vinta peraltro nel finale dalla formazione grigio-rossa Lombarda, allenata da Giovanni Stroppa con un gol nato da una grossa svista della difesa del Catanzaro, la rete decisiva nel finale di Barbieri per la Cremonese, rete peraltro molto contestata dopo la decisione del VAR di convalidare la rete che sembrava almeno queste le proteste del Catanzaro in offside. Dunque un passo indietro per la formazione di Caserta, indubbiamente è stato così, non si è espresso bene, il Catanzaro è vero di fronte aveva una squadra forte come la Cremonese alla quale però mancavano ben sette calciatori tutti importanti e soprattutto non è neppure una Cremonese straordinaria, eccellente nelle prestazioni e nei risultati in questo inizio di nuovo campionato così come erano andate un po' le cose nel finale dello scorso campionato, la squadra di Stroppa si porta un po' dietro le stesse difficoltà, nulla da dire, è indiscutibile comunque il bagaglio tecnico, la qualità della Rosa, dell'organico della Cremonese che non ha cambiato il telaio rispetto allo scorso anno e di conseguenza prosegue quel percorso intrapeso l'anno scorso. Quando non è riuscito ad arrivare alla promozione ci riprova quest'anno la squadra di Stroppa anche se non sarà semplice perché il campionato di Serie B di quest'anno è molto difficile a differenza di quello dello scorso anno che sembrava un po' più livellato verso il basso. Sconfitta del Catanzaro che domenica invece va alla Rechi di Salerno contro una squadra altrettanto in difficoltà, la Salernitana appena retrocessa dalla Serie A, Salernitana a sette punti, Catanzaro sei entrambe nella zona bassa della classifica, serve sicuramente una prova di carattere alla squadra di Caserta che è già nuovamente in discussione così come ad inizio campionato da parte della tifoseria, la società si è espressa invece in maniera differente, grande fiducia in Fabio Caserta al quale però ovviamente serviranno i risultati. Vedremo la prestazione del Catanzaro a Salerno, la prestazione del Cosenza interna con il Sassuolo non è stata sicuramente da buttare via, di fronte c'era una squadra allestita per il salto di categoria immediata, per il ritorno in Serie A immediato come quella di Fabio Grosso che ha vinto per 1-0, sicuramente prestazione da non buttare via quella del Cosenza di Massimiliano Alvini che dopo la vittoria con la Sampdoria deve arrendersi invece questa volta alla Sassuolo, ma chiaramente pesa come un macigno quella penalizzazione di 4 punti, altrimenti il Cosenza attualmente sarebbe in zone certamente più tranquille della classifica sarebbe 8 punti, invece si ritrova 4 punti in classifica, terz'ultimo a più 1 su Calarese e Frosinone. Trasferta difficile per il Cosenza a Bari perché la squadra di Moreno Longo è in netta ripresa, ha vinto 3-0 a Frosinone dopo aver conquistato i primi 3 punti in casa nella settimana precedente, quindi compito tutt'altro che semplice per il Cosenza di Alvini, il Bari attualmente è una delle squadre peggiori da affrontare perché sembra in netta ripresa. Vedremo, andiamo in Serie C dove per il Crotone è un naufragio totale, una disfatta autentica sul campo del Picerno, addirittura 5 reti subite dalla formazione rosso-blu di Emilio Longo, il cui ritorno al curcio di Picerno è assai mesto, 5-2 il finale, naufragio, disfatta, grandinata di gol ai danni del Crotone che però ha l'occasione subito di mettersi alle spalle questa sconfitta fragorosa perché giocherà in casa mercoledì nel turno infrasettimanale con il Sorrento, l'ambiente è già molto in fibrillazione a Crotone, 3 sconfitte in 5 partite, non sono sicuramente un bel biglietto da visita in questo nuovo campionato che doveva essere quello della ripartenza dell'anno zero, del reset, ma rimangono invece, almeno questa è la sensazione, gli spettri fantasmi degli scorsi anni a Crotone, anche in questo caso chiaramente saranno necessari se non fondamentali i risultati per il tecnico Emilio Longo. In serie D la regina si riscatta dopo la sconfitta interna con la Scafatese, va a vincere sul terreno del città di Sant'Agata, trascinata da Barranco, 3-1 la terza rete a Maranto è del capitano Nino Barillà, la Vibonese vince all'Ocri 1-0, mentre prima sconfitta del Sambiase che cade a Pompei 2-0, Campani trascinati da Matteo Di Piazza, dunque Regina che si piazza a 6 punti, dietro la capolista Scafatese ci sono una serie di squadre tra cui anche la Regina e il Sambiase, la Vibonese sale a 4 punti, il Locri perde in casa con la Vibonese, rimane in una posizione sicuramente altamente dignitosa, ovvero ha 6 punti in classifica, ma sa la formazione di Umberto Scorrano che dovrà sudarsi questa salvezza, domenica prossima giocherà sul campo del Paternò, mentre il Sambiase riceve la Nissa, la Vibonese riceve a Luigi Razza il Pompei e la Regina giocherà in casa al Granillo contro il Ragusa, dunque tutte in casa, le squadre calabresi tranne il Locri che va a misurarsi sul campo del Paternò. Noi saremo qui martedì prossimo per parlare ovviamente anche del campionato di calcio di serie D, così come di serie B e di serie C, dunque non perdete l'appuntamento settimana prossima, partire dalle ore 22.40 di martedì con diverse repliche nelle giornate di mercoledì e giovedì. RTC Calabria Sport, il punto, il pensiero sul calcio regionale, la nostra striscia di approfondimento settimanale. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana, non mancate! Grazie a tutti! Grazie a tutti!